Resteranno aperte lo stesso le attività commerciali questa sera a Sulmona, nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la Notte Bianca rinviata data alla destinarsi. L'iniziativa è di un gruppo di esercenti. Qualche saracinesca dunque resterà alzata per dare un segnale di vitalità al centro storico sulmonese. Su rinvio all'ultimo minuto della Notte Bianca interviene anche il sindaco Anna Maria Casini. Vista la delicata e particolare situazione dovuta al vasto incendio che sta interessando il mostro Montemorrone, di comune accordo con l'associazione organizzata di Cedrimon, sentito il prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi, si è ritenuto opportuno rinviare a data alla destinarsi la Notte Bianca prevista per questa sera a Sulmona. Una decisione valutata in merito alle condizioni di messa in sicurezza dei luoghi indicati per lo svolgimento dell'importante manifestazione nel centro storico in concomitanza con operazioni ancora in corso per lo spegnimento del rogo sul morrone, spiega il primo cittadino che aggiunge si ringraziano tutti coloro che si sono adoperati con grande impegno fino ad oggi e sarà nostra premura insieme agli organizzatori di stabilire più presto una nuova data al fine di poter realizzare l'evento.